Ben trovati cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino, ecco le notizie di Globus, iniziamo subito con la prima. Inaugurata la conferenza internazionale ICIAP 2017, alla presenza di scienziati a livello mondiale dopo due giorni di workshop intensivi presso l'Aula Santo Mazzarino del Monastero dei Benedettini di Catania, essendo capitale internazionale del mondo dell'informatica e matematica legata alle immagini. ICIAP 2017 ha già vissuto i primi due giorni in maniera molto intensa, con grande affluenza e workshop tecnici che gli specialisti da tutto il mondo hanno molto apprezzato. È una conferenza internazionale biennale sul settore analisi ed elaborazioni delle immagini e dei video digitali. Ben trovati cari amici di Globus Television, noi ci troviamo oggi al Monastero dei Benedettini perché c'è un convegno molto importante, si chiama ICIAP 2017. Pensate, per circa una settimana la Catania si è trasformata nella capitale dei matematici e degli informatici legati alle immagini. Ben trovati cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino ci troviamo nella Aula Magna del Monastero dei Benedettini a Catania, con me ci sono i professori Sebastiano Battiato e Giovanni Gallo che hanno organizzato l'ICIAP 2017. Che significa organizzare un evento così importante per Catania? Un grande successo per la nostra università, per le competenze della nostra università, per i nostri studenti. Anzi tutto non l'abbiamo organizzato solo noi, ci siamo avvarsi di tantissimi collaboratori sia in università che nell'ambiente universitario internazionale e della ricerca internazionale. Questo è il principale evento internazionale sulla computer vision e siamo molto orgogliosi di essere riusciti dopo tanti anni che ci abbiamo provato a portarlo qui a Catania. Siamo molto felici, sono venute tantissime persone da tante nazioni del mondo, Sebastiano potrà dire qualcosa dopo. Siamo anche molto contenti che nonostante si tratti di un evento tipicamente tecnico scientifico, abbiamo qui ingegneri, informatici, matematici specializzati nel settore che vengono da tutte le parti del mondo, lo teniamo all'interno del Chiostro dei Benedettini che è la sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Questo è anche un segnale che vogliamo dare perché all'interno della nostra università, sia noi così come i colleghi umanisti, abbiamo grande attenzione al dialogo interdisciplinare e crediamo che i vantaggi della tecnologia diano il meglio di sé quando vengono declinati all'interno della nostra tradizione e della nostra cultura umanistica. Quindi è un evento veramente importante, siamo molto orgogliosi di averlo realizzato e siamo certi che porterà buoni frutti sia per il nostro territorio, per i nostri studenti, per i nostri ricercatori, ma anche per la comunità internazionale in termini di visibilità, di opportunità e di scambio. Professore, perché è importante il computer vision? Perché oggi tutti noi siamo sommersi dalle immagini digitali, le immagini digitali e i video fanno parte della nostra realtà quotidiana, tutti noi abbiamo uno smartphone con il quale acquisiamo immagini e raccontiamo quello che ci succede durante la giornata. La computer vision nasce negli anni 70 come la scienza che vuole cercare di capire il meccanismo della visione dell'uomo e oggi grazie ai progressi della tecnologia, della ricerca e del lavoro di tutti i ricercatori che oggi ospitiamo qui a Catania siamo arrivati ad avere una scienza che può considerarsi applicata, finalmente vediamo i frutti di questo lavoro durato tanti anni e quindi possiamo dare veramente un servizio alla comunità fornendo delle soluzioni per i problemi più disparati che vanno dal biomedicale alla parte forense ai beni culturali, ovunque ci sia un segnale digitale che rappresenta un'immagine le nostre soluzioni possono dare una risposta. Grazie. Cambiamo argomento, tutto pronto a Zafferana Etnea per l'attesa cerimonia del premio internazionale di pittura Giuseppe Sciuti, giunta alla sua quarta edizione consecutiva, in programma sabato prossimo, 16 settembre alle ore 19 nella sala consigliare del Palazzo di Città di Zafferana. Inoltre, come prevede il regolamento, saranno assegnati riconoscimenti anche per altre due sezioni il premio alla carriera sarà attribuito al maestro Corrado Iozzia mentre il premio riservato alla sezione giovani sarà ritirato dal dottor Francesco Caristia infine è assegnato un riconoscimento alla memoria a Mario Oscalia, pittore componente dell'associazione Sciuti recentemente scomparso. Altro argomento, dopo il successo delle rappresentazioni nelle gole dell'Alcantara che hanno suscitato notevole interesse anche sui media nazionali, torna l'Inferno diretto interpretato da Berta Ceglie. Sabato 16 settembre, attori, danzatori e artisti del Fuoco metteranno in scena nel meno noto ma estremamente suggestivo scenario del Parco archeologico di Lentini, questo spettacolo tratto dalla traduzione siciliana di Tommaso Cannizzaro della Commedia di Dante. Continua, parliamo di teatro. Dopo la prima assoluta dello spettacolo Micio Tempio, vietato ai minori, all'Anfiteatro di Zafferano Etnea che sabato 9 settembre ha registrato un grande successo di critica e pubblico, la rappresentazione organizzata e prodotta dall'Associazione Culturale Le Nuove Muse formata da Giusy Manna e Simona Di Bella replicherà domenica, scusate, 17 settembre alle ore 20.30 al Parco Urbano Giuseppe Di Stefano di Motta Sant'Anastasia. Raccontare la vita di Micio Tempio, una delle storie poetiche più interessanti della città di Catania, era l'aspettativa. La ha messa in scena in una chiave diversa, inedita, allo stesso tempo divertente e drammatica è stata la sorpresa. Parliamo di musica, si intitola Universi Alternativi, il nuovo album del cantautore Stefano Eliano. Dal 23 settembre è disponibile in tutti i digital store, al di là della maturità artistica che il cantautore ha acquisito, i temi e la maniera di raccontarli rimangono inconfondibili, i testi risultano ancora una volta incisivi, graffianti e provocatori, storie raccontate con il suo indistinguibile stile metaforico al confine con il poetico. Universi Alternativi è un album intenso di riflessione e di viaggio. Questa era la nostra ultima notizia, grazie dell'attenzione e alla prossima edizione.